Buongiorno a tutti quanti qui da Project Fun. Oggi non c'è il nostro amico Edoardo, bensì Lorenzo, che è un membro della community che è entrato da poco e ha qualcosa di interessante e particolare da raccontarci. La tematica di oggi è usare la gamification, diciamo, per la produttività personale, per la propria vita, per migliorare degli aspetti come l'attività fisica o magari lo studio. Adesso vedremo un po' nel dettaglio. Ed è una tematica chiamata forse un po' anche Real Life RPG, quindi usare le meccaniche di gioco all'interno della propria vita un po' come in un gioco di ruolo. Ma vediamo poi nel dettaglio cosa significa tutta questa tematica. Ciao Lorenzo, voglio presentarti un attimino alla community. D'accordo, sono Lorenzo Emigliani, ho 24 anni, provengo da Lugo di Romagna, vicino a Ravenna, studio scienza della formazione primaria e quarto anno faccio la mia vita tra amici, patente e lavoro. E come hai scoperto la gamification e questa tematica? L'ho scoperto per la prima volta approfondendo un po' le tematiche dell'apprendimento tramite alcuni formatori tra cui Alessandro De Concini nei sui podcast su Spotify. Da lì è stata fuori la gamification, che l'ho sentita in un intero episodio lungo 58 minuti. Mi ha iniziato a incuriosire come cosa, perché fin da piccolo giocavo i videogame, soprattutto quelli Bioware o Blizzard. Qual è il tuo gioco preferito? Bella domanda, adesso... Top 3 dai che è più facile. Ok, innanzitutto... Vabbè, forse è un po' banale il primo Skyrim, ci ho passato 300 ore. Un grande classico, anch'io ci ho perso la vita dentro quel gioco. Il secondo è Kotor, Knights of the Old Republic, un famoso RPG di Bioware del 2003. Poi è che sempre gli RPG sono indeciso se fra Mass Effect e Dragon Age, ma direi più Mass Effect. È la trilogia di Mass Effect. Grandi classici. Insomma, hai scoperto la gamification così, legata al tema dell'apprendimento. E poi? Poi ho iniziato a incuriosirmi, ho iniziato a vedere i video, a scoprire i primi libri, e tra quelli, quello più interessante, ho trovato Level Up Your Life di Steve Kamm. Praticamente questo esperto di fitness che ha creato una community, la ribellione, The Rebellion, in cui tramite il concetto di gamification nella propria vita, di RPG e tutto il resto, di quest, punti di esperienza, eccetera, puoi trasformare la tua vita, puoi rendere la tua vita divertente, un gioco in cui poi ti realizzi anche come persona. Per dire, lui che lo applica al fitness, fai tot squat, fai tot pesi, arrivi a un certo peso di muscoli, eccetera, aumenti di statistiche, naturalmente parlando. Il concetto è interessante, provo a spiegarlo per chi non lo conosce, praticamente immagini la vita così come se fosse un gioco, un gioco di ruole, tu sei un personaggio che deve compiere determinate scelte, interagire con le altre persone, completare delle missioni, ha anche un livello di statistiche iniziali e che può migliorare. Prendiamo l'esempio, magari, di attività fisica. Puoi scegliere di giocare al gioco dell'attività fisica e tu parti e dici, ok, qual è il mio livello attuale di abilità? Come all'interno di un videogioco? Immagina di vedere, immaginate di vedere le statistiche, che ne so, velocità, muscolatura. Esatto, esatto. Tipo Skyrim. Tipo Skyrim. Più fai una cosa, tipo in Skyrim, più utilizzi una spada e uno scudo, più diventi bravo nell'abilità, spada e scudo. Esatto. Usi gli incantesimi del fuoco, sei più bravo a usarli. Stessa cosa dovrebbe essere applicata qua, che poi per l'app che utilizzo io, anche se è un concetto che si può fare anche con la penna e la carta, con la matita, cioè ti fai i tuoi calcoli da solo, io utilizzo un'app specifica. Qua c'è invece il concetto, ancora i punti esperienza, la Dungeons & Dragons. Difatti un aspetto, c'è come nei giochi di ruolo, svolgendo determinate attività e missioni, puoi salire di livello e migliorare il tuo albero di abilità. Immaginate di voler giocare al gioco del, che ne so, volete diventare il più grande esperto di gamification in Italia. Questa è la quest del gioco, ok? Che volete intraprendere. Per arrivare lì vi servono alcune competenze, no? Immaginiamo che per diventare un maestro di gamification sia necessario imparare, beh, sicuramente il game design, magari un po' di design delle esperienze, economia comportamentale, giocare a un po' di giochi famosi, e potete dire, ok, per queste 3-4 abilità, che punto mi trovo oggi? E cosa devo fare? Quali missioni devo svolgere per migliorare il mio livello in queste 3 abilità e accumulare punti esperienza? Cosa posso fare per migliorare il game design? Magari posso leggere gli articoli di Project Fun oppure iscrivermi a un corso universitario. e in base alla difficoltà della missione puoi progredire o meno nella tua skill. Ma vediamo un po' qualche esempio concreto, ti condivido lo schermo, qualche screenshot che hai messo nella community. Sì, va bene. Ok. Questo è il gruppo di Project Fun e questo è il primo post con cui ti sei presentato. Qua c'è qualche screenshot dell'app. Com'è che si chiama l'app? Cos'era? Life App. Life App. Costa tipo 2 euro, però per quanto è semplificata e quanto è intuitiva rispetto ad altre tipo abitica o quelle meno famose l'ho trovata proprio top per me. Soprattutto perché ti permette anche di creare i tuoi stessi risultati. Te lo crei tipo... Scegli tu come personalizzarla, diciamo. Sì, sì. Tipo tutte queste categorie me le sono create da me. Queste potrebbero essere un po' categorie di imprese e anche sì che vuoi intraprendere. Quindi ci sono quelle generali, il prologo, poi cos'è adesso? Fisiche. Quest, game, cultura e così via. Quindi c'è libertà di scegliere le proprie missioni e le categorie di missioni. Sì, esatto. Come in un MMORPG tipo in World of Warcraft o Star Wars The Old Republic ci sono una marea di achievements da fare. non ce ne sono tipo quei 180 che trovi tipo in un gioco PlayStation che sono abbastanza limitate. Là sono proprio divise in tantissime categorie a volte per zona geografica del mondo di gioco per categorie di azioni che fai se fai una quest, un ride e così via. Qui stiamo entrando invece nel dettaglio di un'attività. Esatto, questo è il tipo delle quest. Qua per esempio mi è venuta in mente l'idea delle quest giornaliere che ci sono gli MMORPG tipo World of Warcraft che vedevo proprio gli achievement e hai fatto questi 10.000 quest giornaliere e hai vinto un determinato trofeo. Ora, la ripetizione è alla base sul costruirsi o meno delle abitudini sia positive che negative e l'ho applicato con questo. Infatti, se magari vai un po' più su da quel che vedo... Qua in alto... Ah no, scusa. Ecco, si può vedere gli ultimi un bygintig al giorno oppure la morte di un tabagista sono cose tipo non fumare o non mangiare poi dei pasti per tot giorni fino a quando appunto che diventano parte del tuo comportamento. Questo qua è di fila oppure in totale? Quale? Tipo non fumare per 250 giorni, ma... No, no, di fila. Di fila. E poi è una serie di vittorie se la interrompi... No, allora, se la interrompi per un giorno parli semplicemente punti esperienze... Allora, nel mio caso se la interrompi per un giorno scazzi, perdi punti esperienze in resistenza, confidenza perché non hai mantenuto la tua parola data ti abbassa un tantinello le skills cioè c'è una cosa negativa ma non è che si interrompe anche perché all'improvviso fare così da smettere... È impossibile, esatto. Difatti quando l'ho visto volevo chiederti questa cosa era troppo forte secondo me dire buon per 250 giorni di fila non fumo, però... No, no. Allora, se è il bastone e carota però il bastone nella carota devono essere troppo potenti. Esatto. Qua perdi un po' di punti esperienze in alcune abilità se non rispetti... Se non rispetti i tasti... Ti faccio un esempio in Diablo 3 quando muori perdi qualcosa come il 10% dell'oro che hai accumulato, no? Sì, sì. È una penalità ma non è neanche un'enorme penalità dà un po' fastidio. Esatto. Deve essere un fastidio e non una penalizzazione pesante altrimenti rischi di non portare più avanti quel comportamento. Sì, c'è un grosso fattore di demotivazione dopo. E tra l'altro un aspetto interessante legato ai task e delle missioni è che nei giochi c'è una missione di fondo che può salvare il mondo o distruggere una razza aliena. Poi però questa missione grande che è salvare l'umanità viene spezzettata in missioni di difficoltà media che a loro volta vengono spezzettate in missioni più piccoline. Sì, assolutamente. È un principio base della crescita personale. Cioè se vuoi raggiungere un grosso obiettivo lo devi spezzettare in tanti micro obiettivi che poi pian piano riesci a fare perché il nostro cervello non riesce a elaborare una soluzione per un enorme problema da affrontare tutti in un boccone. Cioè è la metafora dell'elefante. Un elefante non te lo mangi tutto intero te lo mangi pezzettino per pezzettino. Questo è un aspetto interessante da prendere in considerazione all'interno cioè dei giochi da portare anche in altri aspetti. E un altro aspetto dei giochi è legato al fatto che sai sempre qual è il prossimo comportamento che devi adottare o comunque se non lo sai fare puoi trovi una community online o qualcuno che è in grado di aiutarti. Nella vita reale invece non sempre si sa come raggiungere un obiettivo più grande. Eh quello sì perché se esatto se che ne so passare facciamo un esempio semplice passare un esame all'università puoi spezzettare il compito in sotto capitoli poi magari paragrafi o comunque argomenti piccolini da fare ogni giorno e diventa un qualcosa di molto più affrontabile ma se io voglio diventare che ne so presidente della repubblica per dire non c'è una strada già scritta che si può delineare sta anche a chi utilizza la gamification capire quali missioni poter intraprendere sapendo che poi non è detto che portino un risultato oppure trovare degli alleati che sono in grado di aiutarti e magari hanno già raggiunto quella posizione e possono dirti come come farlo. No no quello sì perché allora nei giochi di ruolo tu principalmente la pappa pronta no? che le quest non è che te le crei da te perché là sta l'enorme fatica la programmazione l'organizzazione di ferro che ci vuole alla fin fine la tipo adesso io ho iniziato Dragon Age 2 giusto in sti giorni come in un qualsiasi GDR che si rispetti tu vai delle persone che hanno non so un segnale sopra la testa e ti fai dare le quest create dagli sviluppatori no? cioè è già la pappa pronta nella vita reale devi creartene tu le quest e non hai il punto esclamativo sopra i personaggi esattamente cioè oi ci può essere l'amico che ti chiede il favore ci può essere una persona che ti propone qualunque cosa tipo la quest del facciamo questa intervista to però principalmente nella vita reale se tu e i tuoi obiettivi il tuo scopo di vita tutte le altre che tu devi intraprendere le queste le devi calda te e un po' capire quanto ti devi ricompensare quanto ti fa sviluppare e così via ti faccio un esempio questa cosa è presidente della repubblica sì lo dividi in capitoli della tua storia personale questa qua come idea della storia degli atti l'ho presa tipo da The Old Republic che ogni classe ha una propria storia divisa in atti da lì mi è venuta questa cosa qua come ispirazione e dici ok l'università è tipo il mio periodo della Padawan per iniziare a entrare i miei primi passi nella politica dove da là diventerò pian piano costruendo alleanze la mia base di potere in un partito fino a che ovvio se hai questi obiettivi enormi devi avere anche senza l'adusiglio da gamification un avviso di lungo termine sfaventoso una programmazione di ferro una motivazione incredibile io ho esagerato apposta per chiaramente far passare il concetto no ma allora la gamification da una cosa ti aiuta molto di più a spezzettare in capitoli e minchi obiettivi perché è una cosa già risaputo nella crescita personale nel mondo della crescita personale però la gamification ti aiuta perché te lo rendi divertente soprattutto Marco e questo devo ancora svilupparlo il mio conto serve una forte narrativa e un forte senso di storytelling quando hai un progetto di vita cioè quando tu ti crei la tua storia e non la vedi come e non vedi la tua vita come una lunga serie di momenti scollegati fra loro è tutto molto più appassionante come le vite dei protagonisti delle nostre storie preferite tipo The Witcher che c'è anche adesso la serie su Netflix lo sto giocando in questi giorni Wild Hunt sì non ci avevo mai giocato ho detto dai lo proviamo bello sì farò qualche post anche sulle meccaniche di gioco eh ci sta per dire The Witcher che è tipo lungo cinque libri sviluppa un po' non dico tutta quanta però molta della vita di Geralt di Livia e migliori di persone sono appassionate ma anche le classiche anche i classici viaggi dell'eroe tipo non so eh Frodo, Baggins Jock Skywalker Katniss Everdeen cioè il classico di qua parliamo le loro storie di viaggio dell'eroe appassionano perché non è che vedono solo la gloria vedono i punti più bassi le prove i tormenti che subiscono e ci affassioniamo perché diciamo alla fine trionfano e se mettiamo questo senso di storytelling nella nostra vita tipo tramite un diario io sto facendo delle diapositive eh powerpoint per mettere la mia vita come se fosse veramente la trama di un romanzo la ti carichi molto di più perché dà anche un nuovo senso di scopo e significato alla tua vita cosa che al giorno d'oggi manca a molte persone c'è questo concetto l'ho espresso anche Yukai Chow non so se l'ho detto giusto che è un famoso game designer nel primo stilige del suo Octavio analisis si ti dice vuoi essere un eroe quindi qualcuno di proattivo che rischia che vive esperienze nuove e può cambiare il mondo oppure un NPC un personaggio neutrale dei giochi non giocante che è sempre nello stesso posto lo trovi lì vai nell'edificio e lì ha una vita non monotoma si fa trasportare della corrente vive nella zona di comfort e anche basso rischio è vero eh no infatti ti pone davanti questa scelta qua ho visto che c'è la sezione anche statistiche nell'app dicevi cosa hai scelto di mettere come attributi del tuo personaggio allora innanzitutto ci sono i sei principali che almeno uno di essi c'è in ogni missione che l'hai preso molto di più da D&D no il classico forza intelligenza resistenza anziché destrezza abilità sociali e carisma e così via poi c'è una lunghissima fila che vabbè non sono uscito a pubblicare gli imposti sti giorni per quanto è impegnato delle abilità ti spiego nella mia app tu puoi scegliere un massimo di questi attributi da potenziale tramite una missione io metto una caratteristica delle sei principali quelle a modi D&D poi due skills che tipo non so possono essere bodybuilding dodgeball antropologia umanesimo una lingua una qualunque tipo di skills tipo non so se faccio un'ora al giorno di edizione per cui miglioro i miei difetti di pronuncia guadagno dei punti di esperienza per passare di livello nella skills di comunicazione se studi inglese uguale per inglese se studi antropologia divento molto più esperto in antropologia questa cosa qua mi è venuta sì anche da lì un po' in skyrim perché è presente che puoi anche avanzare le abilità leggendo solo dei libri in skyrim sì sì quando leggi un libro delle volte puoi aumentare le abilità c'erano i tomi esatto esatto ma anche nei giochi tipo bioware o la dnd dove leggi dei tomi delle note della lore guadagni comunque dei punti esperienza sì c'è anche quello in world of warcraft che è arrivato a livello massimo raccogliendo solo margherite per dire però cioè però sì ci metto due skills o una dipende e in più una caratteristica tipo non so faccio un allenamento in palestra e lo metto come missione con tanto di vari step prima fare cardio poi stretching poi la parte del petto e delle gambe potenzio la forza caratteristica principale la resistenza due caratteristiche e poi bodybuilding proprio l'abilità bodybuilding perché ho fatto proprio quella specifica abilità ma qual è il giusto equilibrio tra ok creare delle abilità delle statistiche delle missioni sui propri obiettivi di vita e il non farne troppe perché altrimenti devi stare tutto il giorno a registrare cose come hai trovato il giusto compromesso allora non l'ho ancora trovato perché ci sto dedicando molto tempo in questi giorni a raffinarla come cosa perché andare in abruzzo dai miei nonni e tutto il resto mi è mancato un po' il tempo in essenziale però secondo me quando senti quel senso di progressione lì c'è del tipo vuoi perdere 10 kg e vedi queste statistiche che aumentano e tutto ti danno quel senso di progressione in più che ti rende molto più gratificato ti rende molto più motivato a fare determinate cose che spesso manca magari quando fai delle attività quotidiane anche l'andare in palestra o comunque attività che richiedono una serie di diciamo comportamenti quotidiani dove però i risultati non ce li hai nel breve o medio termine ma nel lungo termine spesso mancano di quel senso di progresso e miglioramento che viene dato dai giochi quindi esatto perché i giochi sono soprattutto gli MMORPG sono molto additivi anche per questo senso di progressione ma credo anche gli RPG in generale solo che giochi come World of Warcraft World of Warcraft che te lo fanno fare in maniera molto più rapida poi tu passi dal livello 1 al livello 10 hai quella bella scarica di dopamina che ti viene voglia di poi di continuare ancora e ancora cioè accumuli un successo dopo l'altro ma credo anche The Witcher The Wild Hunt cioè fai fuori nemici copriati missioni raccogli sempre i compensi più grandi più grandi ancora hai sempre quella voglia di fare di più e ti viene il classico dai ancora 5 minuti e poi spengo per molte attività del mondo reale invece non accade perché c'è fatica non vedi una ricompensa concreta soprattutto nei brevi termini spesso e volentieri e robe così ho visto condivido di nuovo lo schermo che hai messo anche degli obiettivi dei badge esatto sì sì cioè badge diciamo che diciamo che comunque sì delle immagini attinenti delle missioni da completare tipo con una serie di attività sì sì tipo non so andare in alto adige con i miei amici quel tipo di ecco qua invece mi è venuto in mente tipo di ispirazione quando affronti i boss dei rights di World of Warcraft no? perché superare un esame per me comporta un sacco di obiettivi secondari spezzettati da fare e poi superi il boss finale ossia il giorno dell'esame se ne esci bene è come una milestone raggiunta un trofeo esatto e come puoi notare ci sono delle cose abbastanza attinenti tipo vedi Freud per psicologia dello sviluppo e poi naturalmente cerchi oltre all'escrizione di dare dei nomi buffi dei giochi di parole come puoi notare in tanti ac mezzi di diversi giochi sì sì questo mi ha divertito parecchio quando ho visto gli screenshot tipo a me molto di ispirazione quando giocavo Starcraft 2 che usavano di ogni di ogni briccio di creatività che avevano prendere accattivanti i nomi degli achievements con relativi immagini è noiosissimo vedere gli achievements qua hai messo un post con l'esempio di Star Wars la era per spiegare un po' il sistema non a onda a intervalli regolari su come raggiungere un determinato obiettivo che deve essere fatto quotidianamente tra cui che era questo qua l'esempio del diario esatto tipo il diario quindi come vedete ci sono tieni un diario personale per 7 giorni 21 giorni 30 giorni con la progress bar e l'obiettivo raggiunto e poi man mano che diventano più complesse diciamo man mano che diventano più complessi gli obiettivi da raggiungere cambiano anche i nomi e diventano simpatici o comunque sì c'è roba che ti invoglia e poi gli intervalli sono sempre più grandi ma questo l'ho spiegato anche in un post della mia rubrica per il fatto semplicemente che non puoi essere ricompensato per ogni singolo giorno che fai il diario a parte i punti di esperienza che ricevi infatti gli achievements cioè come dire è un po' diverso da guadagnarsi un trofeo dal gente perché è completato il gioco in modalità normale rispetto a uno d'oro perché l'hai finito in modalità difficile ci deve essere una giusta distanza cioè all'inizio ti viene il compensato di dopamina manetta poi ne vuoi sempre di più e per cui sei più invogliato a fare intervalli sempre più lunghi Lorenzo da quanto tempo stai provando ad utilizzare quest'app e ho ottenuto qualche risultato da quando hai iniziato allora l'ho iniziata in maniera molto cacciara sarò sincero ad aprile dell'anno scorso poi non ci ho ballato granché durante tutta l'estate poi ho avuto voglia di cambiare vita da quest'ottobre adesso la utilizzo seriamente sono a livello 6 devo ancora raffinarla perché nei prossimi posti della mia rubrica parlerò anche di cose come l'inventario come giocare come proprio fare il roleplay del tuo alter ego che ti inventi a mo' di Steve Camp perché lui ne parla molto bene il suo libro ma ne parla anche Jane McGonial perché anche lei si è creata un alter ego se ti ricordi bene quando ha avuto quel trauma cranico sì c'è un libro che si chiama Super Better che parla di questo argomento anche ha proprio delle missioni che tu puoi svolgere all'interno del libro legate a vari aspetti del benessere personale per proseguire con il libro devi completare le missioni che sono in difficoltà crescente e hanno anche opzionalità quindi puoi scegliere se fare una cosa rispetto ad un'altra ok allora comunque direi proprio in maniera seria non in maniera proprio cacciona da questo primo di ottobre poi ovvio è un costante trial ed error no? però mi sto inizio ad appassionare a farlo in maniera proprio quotidiana questo questo aspetto cioè questa tematica è molto interessante però per la diffusione su larga scala cioè per il momento forse è un po' difficile la diffusione su larga scala perché è estremamente personalizzata su quali sono i tuoi obiettivi di vita chi vuoi diventare ed è difficile giocare ad un gioco pensato per la vita di un'altra persona e richiede comunque delle doti di personalizzazione di comprensione del game design e anche di ciò che sei disposto tu a fare ma credo che con il giusto bilanciamento tra tempo dedicato all'app e puoi probabilmente ottenere dei risultati interessanti poi io cerco di rendelo veramente ormai come se fosse un RPG tutto curto tra cui inventare eccetera c'è può anche essere gente che fa in maniera molto più semplificata si puoi avere vari livelli di complessità diciamo se uno è alle prime armi o alle basi non è che deve fare una cosa così complessa o magari evolve con il passare del tempo e diventa via via più complesso come con i giochi però che sia alla portata di tutti io lo penso perché comunque anche del rebellion la ribellione questa community di steve camp cioè ha dotato il suo stesso metodo cioè anche loro hanno i propri alterego hanno le proprie quest mi viene in mente per esempio un esempio che ho letto nel libro di questo padre vedo o divorziato non mi ricordo che a seguito della sua passione per il manga The Wolf e The Cube cioè il lupo e il suo cucciolo ha creato tutta una serie di quest ha creato due alterego per lui e per il suo figlio con cui passare un maggior tempo tra di loro cioè un maggior tempo di qualità padre e figlio è ovvio magari lo fai in maniera più semplificata io cerco di rendere la mia vita come se fosse Dragon Age The Old Republic World of Warcraft magari per la gente per l'altra gente vuole fare cose più superficiali per un giusto un solo ambito della propria vita anziché tutti sì sì sicuramente in modo più semplificato è alla portata di tutti ogni esempio del libro che ho questo libro di stick camp e colletto c'erano tutti quanti avevano il proprio l'alter ego tutti quanti avevano la propria classe perché nel libro ci sono anche le varie classi in base alle specialità fisiche che fai se bodybuilding se yoga e anche le abilità innate io ad esempio sono alto due metri potrei mettere che sono un gigante tra la classe e le abilità innate un gigante guerriero non fai che mangiare tipo come la montagna di Game of Thrones sulle vitronqui come uno scozzese è divertente così no no ma se ci guardi ci sono proprio le classi a modi D&D nello sito ufficiale di Net Fitness che proprio ti dici in base alle tue cose dà anche esempi di vita reale vedi lì però è contestualizzato in un ambito che è il fitness quello che dicevo io prima è che il contestualizzato in un ambito specifico come il fitness è più facile puoi creare comunque classi già sfide cose ma tutta la la vita in generale è molto aperto come ambito ed è meno alla portata di tutti no no si si io lo faccio perché mi appassiona tantissimo e mi piace tantissimo come cosa poi ovvio uno può anche non fare tutti gli ambiti della vita hai qualche dritta da consigliare agli altri membri della community Lorenzo? allora per questo mio progetto in particolare io consiglierei gli MMORPG la serie del The Scrolls per quanto riguarda il saper fare le cose gli achievements e i giochi per quanto riguarda lo storytelling per se siete appassionati anche voi di questa cosa qua e vi incuriosisce volete applicarla oltre ai libri oltre alla lettura dei libri Superbetter e Level Up Your Life che da lì sono partite le mie basi per fare questa cosa qua consiglio anch'io Superbetter che è una bomba Level Up Your Life devo ancora leggerlo metterò nei commenti qua al video i link si ok e poi niente secondo me quando la vita viene presa non solo come un gioco ma proprio come uno di quei videogiochi che vi appassionano tanto che comunque sta di fatto che le storie che raccontano ci appassionano un casino le ambientazioni i viaggi che si fanno da andare a visitare i reali dell'oblivion del The Scrolls 4 a uccidere il generale Shepard di Call of Duty e Modern Warfare 2 se noi giochiamo i videogiochi anche per un determinato motivo perché sono una forma di molto spesso di escapismo per le storie per quello che raccontano e allora perché non cerchiamo di rendere eccitanti epiche pieni di significato i nostri vinti usando gli stessi elementi di storytelling game design che conosciamo così bene perché alla fine sì è una gran fatica perché non ti danno la pappa pronti fatto gli obiettivi scopo di vita come ti danno in videogame però per uno che magari pensa che la propria vita sia noiosa o diciamola così apatica o magari che non può essere migliorata questo può essere un buon metodo grazie mille Lorenzo super interessante e speriamo di fare un video più avanti un saluto a tutti ciao ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti